Ciao ragazze, bentornate sul mio canale oggi un video mi trucco con voi ne approfitto per farvi vedere un trucco con la India Collection di Paula P che ho preso al Cosmoprof ve l'avete vista appunto nel video haul e la palette in questione è questa qua con questi bellissimi colori però questi li utilizzerò per la palpebra mobile mentre per la rimacigliare inferiore ho delle idee avevo intenzione di mettere un po' di blu elettrico come ho la maglia, il golfino e poi questo tipo verde smeraldo degli orecchini, questi tra l'altro me li aveva regalati Daniela The Night of Cinderella, che saluto i capelli li ho messi su una coda laterale in questa maniera così non mi danno fastidio e ho già fatto la base ho messo il fondotinta il correttore, le solite cose che avete visto ultimamente era inutile stare a perdere tempo e per cipria ho già messo anche il paint pot painterly della MAC e oltre alla India di Paula P ho bisogno di una palette di supporto e scelgo di utilizzare la la mulac più che altro sicuramente avrò bisogno di on matte per sotto l'arcata e poi un misto di questi due colori così almeno faccio tutto con queste due palette allora questa settimana che voi state vedendo i video non so questo quando lo caricherò e non so manco cosa sto per fare prendo un pochino di on matte e lo metto intanto sotto l'arcata sopraccigliare io sono a Palermo infatti oggi che ho un pochino di tempo voglio registrare qualche video di solito quando vado via non sì qualche volta vi ho caricato qualche video mi ero avvantaggiata ma questa volta ci tenevo particolarmente perché ho tante cose da dirvi in tanti video come sempre vi dico prendo adesso questo marrone terra di siena con il pennello di MAC il 217 che già era un po' sporchino l'ho già preso un po' di colore è la prima volta che la provo e quindi ok c'è una scrivenza pazzesca da urlo oddio voglio fare una bella sfumatura intensa anche perché anche se non la volevo fare intensa la facevo ugualmente perché questo colore è super scrivente è super setoso però vi dicevo io vi voglio fare tanti cioè vi voglio cioè vi ho già vi sto girando insomma tanti video infatti ci sta che così mi vedrete truccata per altri due video perché se no mi si accumulano le cose che vi devo dire e poi va a finire che non vi faccio poi altri video che magari hanno bisogno di più tempo tipo sicuramente avrete già visto o vedrete insomma dopo voglio girare quello dei prodotti preferiti promossi e bocciati del di marzo e poi voglio fare vedere le cosine del ho cambiato pennello ho preso il 2 2 1 di di zoeva per amalgamare bene il tutto e per sfumarlo bene e devo dire che comunque questi ombretti si sfumano alla grande adesso vado a prendere questo oro perlato e lo prendo con il pennellino di essence piatto classico da ombretto oh mamma mia sono super pigmentati questi questi ombretti tra l'altro io non mi vedete ho lo specchio lontanissimo come una sciocca come al solito perché non mi so gestire bene gli spazi davanti a me ecco così vedo anche meglio prendo questo marrone più scuro e l'ho preso con questo pennello delle chicche e lo vado a mettere nella parte finale dell'occhio tipo come se volessi tirare una riga di eyeliner metto un pochino di questo per dare ancora più intensità perché voglio fare un trucco questa paletta ha fondamentalmente colori abbastanza nude insomma come vedete non ci sono colori chissà quanto colorati pazzi però voglio fare un trucco un po' più particolare bello carico anche se con colorini bello carico e fu così che venne fuori una cosa tranquillissima questa paletta ha dei colori abbastanza caldi e secondo me d'estate questa sarà una bomba poi riprendo un pennellino di quelli sporchi di prima questo è quello di Zoeva e amalgamo bene il tutto applico adesso l'eyeliner che è quello di Urban Decay il Perversion con il pennellino della Essence e faccio una bella riga di eyeliner voi la potete fare insomma come più vi piace io la volevo così perché insomma mi piaceva esattamente questa forma faccio l'altro occhio e poi pensiamo alla parte di sotto dell'occhio ok adesso per la parte inferiore metto all'interno dell'occhio la parte blu elettrico della matita occhi numero 03 di questa collezione vecchissima di Kiko e poi dopo la vado a ripassare con con un ombretto mentre sotto a quel matitone vado a mettere il numero 10 dell'unlasting di Kiko vi faccio vedere i due colori sono questi qua che più o meno aiuto non so che orecchino farvi vedere aiuto più o meno riprendono questi due colori no? prendo con questo pennellino perché c'è una punta troppo cicciotta e vado a sporcare qua proprio sotto al blu tra l'altro quel blu fa pena e lo voglio intensificare assolutamente con titanic mentre per il un lasting di Kiko prendo questa palettina della lavish oriental di Kiko prendo questo colore qua se ho bisogno che vedo che il colore non è proprio identico vado a prendere anche un po' di Jade della Mulac e visto che così è parecchio definita prendo la parte dietro del pennello doppio di H&M e sfumo un attimino i bordi del verde un esperimento quindi siate clementi non ho mai fatto niente del genere come sapete mi trucco con voi spesso e volentieri faccio degli esperimenti che anche io non ho dei trucchi che non ho mai fatto quindi mi invento le cose strada facendo e e quindi va un po' a fortuna il risultato adesso metto il mascara che è sempre il Lashmania Reloaded di Essence ed ecco qua adesso un bel paio di ciglia finte ci stavano alla grande e niente finisco l'altro occhio e torno da voi per completare il viso e questo è il risultato finale ragazze a me piace tantissimo per essere una cosa che ho improvvisato adesso sul momento ne sono molto contenta mi sono semplicemente levata la coda non so in che condizioni siano i miei capelli vado a fare un pochino di contouring anzi più che contouring vado a scaldare un po' il viso prendo la cipria di Elf tra l'altro lo sapete che Elf non non venderà più non potremo più comprare prodotti Elf no? che allora io li compravo all'inizio perché comunque per una persona che era tra le prime armi erano prodotti low cost e e tanti anche buoni ecco voglio proprio scaldare un po' il viso in questa maniera tra l'altro anche il pennello che sto usando è della Elf è lo stipple brush poi sulle guance quasi quasi che ne dite se utilizzo questo qua che c'è all'interno della palette e come vi ho detto nel video tra l'altro c'erano i nomi dietro allora io ho utilizzato Maraja che è il numero 17 che è l'oro poi ho usato Gange il 21 che è quello marrone terra di siena e il 22 Dharma che è il marrone scuro mentre adesso vado a usare Kamasudra si chiama ah vedi vedi a Paola siccome è il dupe di orgasm hanno messo Kamasudra guarda che potrebbe anche darsi eh se l'avessi scoperto prima gliel'avrei chiesto a a Paola al Cosmoprof bellino sulle guance ah non ci ho pensato volevo utilizzare Devil Kajal questo perché penso bagnato si può cioè no penso allora è un Kajal o un ombretto matto o un Kajal però non ci ho pensato utilizzarlo mettendo questo non c'è bisogno neanche che metto l'illuminante perché è un blush molto luminoso mentre sulla bocca dato che ci siamo in tema di Paola P e della mia il mio rossetto nude diciamo preferito insieme a Capricious ok stavo ritrovando la matita a me l'hanno inviato allora la palette non l'ho comprata invece queste due cose me le hanno inviate sto parlando della Lip Pencil numero 05 ma ve l'ho già fatta vedere questa qua che è molto carina mi ero messa un po' di burrolabbra e come rossetto vado ad utilizzare uno che quando lo metto me lo chiedete in tantissime ed è lo 01 Tosca day 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 oddio vabbè dei rossetti comunque non sono i nuovi usciti sono quelli usciti tre mesi fa è un bel nude carico mattonato però è veramente bello e niente ragazzi questo è il look completato spero che questo video vi sia piaciuto di avervi dato un po' di spunti e niente vi saluto e vi lascio al prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti